Perché è uscito da poco, la settimana scorsa, il nostro primo album di Tick Checkmate e questa sera veramente vi facciamo aspettare due pezzi di punta di quest'album e saremo felici se alla fine chiunque volesse questo album può avvicinarci ed è disponibile per tutti voi. Finalmente dopo tre anni di duro lavoro ce l'abbiamo fatta. E questa sera vi facciamo ascoltare due brani. Il primo è Seven Depressions e il secondo è Over The Moon che è il pezzi di punta dell'album. Grazie. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti